Buonasera a tutti i lettori di Vivi Casa Giove, siamo in compagnia di Linda Petriccione, una cantante musicista esordiente di Rezzi. Linda, senti, com'è nata la passione per la musica? Guarda che io mi ricordi, ero piccolissima, ho pochi ricordi, ma uno molto importante legato al maestro Pompeo Ferraro che mi ascoltò e che mi disse devi studiare perché hai delle buone possibilità per fare quello che ti piace. Senti, come mai come titolo di questo spettacolo è stato scelto i migliori anni? Beh, perché volevamo accontentare anche un po' il pubblico, oggi si sono un po' persi i valori a cui tutti siamo legati e abbiamo scelto un repertorio che possa ricordare un po' i bei momenti a tutti, quindi i migliori anni, cercando un repertorio conosciuto innanzitutto ma di belle canzoni e insomma speriamo di farcela. Capito, un'ultima domanda, ma come mai ai tempi di oggi diciamo che la musica italiana è meno apprezzata rispetto a quella straniera? Ma secondo me si vuole strafare in Italia proprio per arrivare a raggiungere qualcosa che alla fine non serve perché noi abbiamo una tradizione e va rispettata e secondo me dobbiamo portare avanti quella senza compararci oppure cercare di arrivare a qualcosa che non ci appartiene. Capito, Linda puoi fare un saluto ai lettori di Vivi Casa Giove? Certo, con molto piacere, un bacione a tutti quelli che ci seguono e quelli che seguono Vivi Casa Giove, grazie e alla prossima!